Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Magari mostrandovi una delle features di questo gioco che è il teletrasporto che ci consente di tornare al modulo del nostro Seatrack. Sì perché il gioco è, la base del gioco è la stessa, si va sott'acqua col Seaglide, si trovano le varie risorse ma fondamentalmente il Seamot non esiste più ma esiste questo Seatrack. Ora tornando verso la base vi parlo un pochino del gioco e poi andremo a vedere quali sono le differenze con il primo. Allora in pratica io adesso ho questa abilità di questo Seatrack che mi permette di accelerare. Come vedete in alto posso andare fino a 1000 metri di profondità e sono arrivato al Mark 3 di potenziamento. Ha anche una difesa che è quella di elettrizzare i nemici quindi nel caso in cui vi troverete di fronte a un Leviatano lo potrete scacciare abilmente se siete anche bravi, velocemente, istantanei, quando vi afferra vi molla subito e non subite danno o quasi. La struttura del Seamot, cioè il sottomarino piccolino nel primo capitolo, qui non c'è più. C'è il Seatrack che è la capsula che stiamo guidando ora ma quello che stiamo guidando ora effettivamente è un treno. Il treno è composto da vagoni e i vagoni sono configurabili nel senso che voi ve li potrete craftare, ne potrete craftare più di uno e poi andare a montare il treno dei vostri sogni insomma in base anche alle vostre esigenze. Ora vi faccio vedere velocemente se finisce di accelerare. L'accelerazione costa il 2% di batteria ogni volta. Allora praticamente vi mostro velocemente, questo è il Seatrack base con il vano dei potenziamenti. Qua avete la testa appunto che potete staccare in qualsiasi momento e usarla come fosse il vecchio Seamot quindi muovervi agilmente e molto più velocemente. Avete poi i vari vagoni. I vagoni sono appunto staccabili usando queste parti qui. cliccate qui e guidate voi spingendovi, nuotando, assemblando poi i vagoni uno in coda all'altro. E i vagoni sono in pratica composti da ogni genere di... questo è il vagone dove potete stivare gli oggetti, quindi rinominando gli armadietti. potete andare a craftare, quindi un vano di stiva più il crafting. Il teletrasporto appunto craftato insieme a questo telecomandino alimentato dai blocchi verdi che trovate nell'avventura per teletrasportarvi in qualsiasi momento qui. E in fondo c'è quella dell'esoscheletro, in pratica, dove potete ancorarlo dietro e con un tasto lo mollate e lo utilizzate. Vi dico, nell'avventura ci sono diversi modi di approcciare le cose e io questo non l'ho mai usato più di tanto. È utilissimo per scavare nei fondali grossi giaccimenti di risorse, ma non ne ho mai avuto bisogno perché ho lavorato sempre molto io a mano, insomma. Però ecco, questo è il bello di questo gioco, che potete variarne appunto l'approccio. Questo è un modulo, qua non è alimentato, quindi non si vede nulla, quindi adesso vi accendo la luce. Questo è un modulo acquario dove potete, passando a fianco pesci, ve li cattori in automatico e li potete andare a prendere, quindi cucinare, avete ancora una fonte di cibo. E questo invece è il vano dormitorio dove potete andare a mettere un'immagine e dormire, quindi far passare il tempo velocemente. Allora, una delle grosse differenze, ne parlavo con un amico, insomma, e sono arrivato a questo ragionamento. Nel primo capitolo la base non era così indispensabile perché una volta che avevate il Cyclope, che era il grosso sottomarino, non ne avevate bisogno, coltivavate lì. Dato che qui, a quanto visto, non è possibile costruire oggetti all'interno della base, di questo sottomarino, vedete che io adesso vado, prendo il vasetto, ma non me lo fa mettere, non c'è proprio modo di piazzarlo, rende molto più utile la costruzione di una base, e meglio se, come ho fatto io, al centro del mondo, proprio in una parte centrale della mappa. Lì sotto vedete che c'è la stazione che c'era anche nel primo capitolo, questa qui, di, non questa, questa qua che abbiamo appena passato, di modifiche dei mezzi. Lì potete andare con l'esoscheletro o con la testa del sottomarino, non con il treno, perché non ve lo prende, anzi si bugga anche un pochino, quindi... Ecco, è uno dei tanti mezzi, uno dei tanti edifici riciclati dal vecchio capitolo. Avete accorgervi che guidate un treno, quindi occhio a fare le curve. Questo tubo è nuovo e in pratica serve a inserire il sottomarino a cui viene staccata la testa, vedete, viene svuotata la stanza dall'acqua, e quindi in pratica voi potete andare e usare come magazzino supplementare i vagoni che vengono messi all'interno appunto di questa... di questo tubo, insomma, di questa galleria. La base, come vi dicevo, è molto più utile rispetto al vecchio capitolo, perché sono stati aggiunti tanti oggetti, tra l'altro potete anche craftare cose assolutamente inutili come soprammobili, come water, addirittura mi serve un tubo, cose che non ho mai craftato, non ho mai avuto esigenza di craftare, però insomma potete farle. Non so cosa servano onestamente, non è stato utile, diciamo, per finire l'avventura. Però in sintesi, una volta che poi avete le cose base, la generazione di energia, quello bioenergia, insomma il bioreattore, è utilissimo all'inizio, ci potete mettere dentro i pesci, cose varie, per alimentare, poi andate fino all'energia solare, nucleare o geotermica, insomma, e questo vi basta, non è eccessivamente difficile. La coltivazione è utilissima perché troverete tante colture all'interno del mondo, in ogni bioma ce n'è una o due, insomma, utili, che alla fine vi permetteranno di craftare cose iper-efficienti per la sopravvivenza, quindi in grado di riempire la vostra barra della sete, della fame e del calore, perché c'è, rispetto al primo, un'ampia parte dove dovrete vagare in superficie e in superficie c'è il freddo. Quindi due possibilità per voi, il crafting di una tuta che io non ho fatto e questo vi fa capire la diversa natura, insomma, del gioco rispetto al primo, perché potete fare questi vestiti antigelo con la fibra rete e la pelliccia di Stalker che dovete uccidere e poi prelevare grazie al pinguino, credo, ma non l'ho mai fatto, quindi calcolate che io ho optato invece per craftarmi la moto, la moto che non ho perché è in superficie adesso, quindi la moto non vi fa patire il freddo, se no potete camminare con la tuta, non soffrite il freddo, il freddo è una sorta di timer che scende come scende quella dell'ossigeno quando siete in acqua. Quindi approcci diversi, come vi dicevo la base è molto ricca perché ho preso un sacco di cose ed essendo al centro della mappa io comunque facevo le mie scorribande avendo una base mobile limitata ma comunque utile, che è il vermone qui, ma il ritorno qui era sempre fondamentale ed è una cosa che nel primo non c'era qua la possibilità di coltivare, ma in realtà la vera possibilità di coltivare è su piante all'interno ma anche all'esterno perché il bello adesso è che nel 2, in questo below zero, potrete coltivare, non si usano più i funghi per fare le batterie, ma si usano delle piante che sono queste, la pianta nastro, inoltre questo anemone cotonato giovane, piuttosto che la sacca di gel, piuttosto che questa, sono tutte cose utilissime nel crafting di medio-alto livello, insomma, e le potrete coltivare vicino a casa. Quindi la base è quanto mai indispensabile rispetto al capitolo precedente, ovvio dovete piazzarla dove meglio credete, insomma, non ha senso per me piazzarla molto in basso, anche se vi potrebbe facilitare, dipende, il gioco è proprio approcciabile in ogni modo, in ogni modo possibile, insomma, in base alle vostre esigenze. Ora, arriviamo alle conclusioni, la storia io l'ho finita in 26 ore, prendendomela comoda fino a un certo punto, perché io ci ho passato i giorni interi a pianificare la base, andare a prendere le risorse che mi servivano, una volta per volta, a graffitare tutta questa roba, 26 ore, la media è 20, più o meno, però tenete conto che tante volte la storia, essendo criptica, ed essendoci un gran numero di quantità di documenti da vedere, guardate quanti, c'è anche un NPC che incontrate, cosa che non si vede nel primo capitolo, io sono ricorso tante volte alla wiki, la wiki è utile, è uno di quei giochi, l'ho sempre detto, che non vi spoilera, ma vi dice dove andare, e più o meno, anche guardando video in internet, che vi dice dove andare, vi risparmiate decine di ore, magari noiose, la storia criptica, sì, c'è l'NPC con cui parlate, che conoscete, che è un altro sopravvissuto qui, che vi chiederà anche di fare dei compiti, non pensate nulla di risposte multiple, vi parla, poi finisce di parlare, basta, quando vi rivede, vi dice, ah, siete ancora qui, fine, però, vabbè, usando anche la wiki, io vi dico, mi sono divertito, sono cambiate alcune meccaniche rispetto al primo punto, come numero di oggetti craftabili, che cosa serve, bene o male sono le stesse cose, ma hanno dato quell'importanza che la base non aveva nel primo capitolo, poi, il primo è sempre stato il primo, quindi io il primo lo recensì su un sito, a Rewindy, che oggi non esiste più, e gli diedi 9, e feci anche un video, cosa do a questo titolo? Ovviamente si è esaurito quel fattore di novità, quindi io gli darei un 8 pieno, bello pieno 8, però, ecco, tra i due cosa preferisco? Ecco, con i suoi difetti della base, l'1 lo continuo a preferire, ma non prendetelo come una cosa negativa, perché il gioco merita assolutamente tanto, e vi dicevo, se vi piace esplorare e perdere tempo, potete anche non guardare la wiki ed esplorarlo volta per volta, ma vi garantisco che anche guardando la wiki, la wiki vi può dire, ok, lo trovi in quel bioma lì, però ci devi andare, lo devi fare, devi organizzarti, e la figata è che organizzerete la spedizione riempiendo questa base mobile, delle cose che vi servono, ho detto, io stacco i vagoni, mi muoverò molto più rapidamente ora, e posso andare qui, ok, organizzerete la vostra spedizione, e andrete a, ad affrontare quella missione che vi siete prefissati, ovvio, il gioco non vi dà sempre, non vi dice sempre quello che dovete fare, bene o male sono del, non vi spoiler, ma c'è un'entità che vi dirà cosa fare, ma a volte direte, ma adesso, o andate a rileggervi tutte le, le note, tutte le, le conversazioni che potete rileggerle tutte, o cercherete sulla wiki, bene o male, il finale l'ho trovato più dinamico, il primo, nel primo capitolo, ma anche qui non è male, perché alla fine è un finale assolutamente inaspettato, che non vi aspettate, insomma, e se non avete letto mezzo dialogo, mezzo pad che avete trovato in giro, non capirete, direte, ma perché adesso fa così, quindi c'è tanto da leggere, senza dubbio, non si viene condotti per mano, ma ci sono documenti da leggere, vi stimolano un po' di curiosità, ma niente di che, voi sarete più interessate, più che interessate alla storia, ad accumulare le risorse, e andare avanti, ed essere sempre più potenti, una delle grosse, belle cose di questo gioco, è il senso proprio di progressione, partirete con un ossigeno minimo, fino ad avere quasi, quasi quattro minuti di ossigeno in acqua, quindi il senso di progressione è come pochi altri giochi ho visto, quindi a me è piaciuto veramente, veramente, veramente tanto, che dire, se avete amato il primo, dovete assolutamente prendere il secondo, anche in virtù degli sconti, dei saldi di Steam, se non li avete presi, insomma, con quello che costano, ve li potete godere, da giocare il primo assolutamente, poi il due, magari a distanza di qualche mese, giusto per smaltire un po', perché ci vuole un po' di pausa, tra l'uno e l'altro, uno dei grandissimi, più grandi indie che io abbia mai provato, la serie Subnautica, che si conclude qui, non credo ce ne faranno altre, insomma, però, questo è il gioco, volevo parlarvene così, a mente fredda, sono passato un paio di giorni da quando l'ho finito, e mi sono divertito tanto, avrei potuto temporaggiare ancora di più, e giusto per dirvi, non è che ogni oggetto che trovate, e ve lo ripeto l'ultima volta, ogni oggetto che trovate all'interno del crafting, lo dovete fare, io tantissimi non ne ho fatti, come nel primo capitolo avevo fatto il cannone a ripulsione, o i silui, io qui non ho mai usato un'arma, non ci sono scontri con boss e cose varie, insomma, ho fatto i silui per la tuta prone, ma non li ho mai usati, quindi è un approccio che non è vincolato a un singolo approccio, usando tutti gli oggetti che vi danno, come capita in altri giochi, ma potete decidere di non farli, potete anche non farvi la base, andare volta per volta a raccogliere, il gioco vi dura 150 ore, e uno sdrumamento di maloni, però insomma, potete decidere i vostri approcci, anche la base, farla in zone più vicine ad alcune cose, piuttosto che altre, ma lo capirete dopo, io avevo fatto una base, ho deciso poi che l'ho fatta in un posto un po' sbagliato, ho deciso di farla qui, l'ho rifatta qui, ora la rifare in altri punti, beh, per l'endgame avrei fatto una seconda base in un altro punto, insomma, più in profondità, però insomma, ecco, ognuno sta, insomma, alle sue preferenze. Spero di avervi chiarito un pochino l'idea, spero abbiate gradito questo video, la chiamiamo recensione, ma poi recensione non è, però, su questo titolo. Fatemi sapere sotto nei commenti, e alla prossima. Ciao ciao.